Ciao a tutti e bentornati sul mio canale, oggi vi faccio un video che aspettavate da secoli, veramente, i mai più senza unghiosi ragazzi, sono qui, mi sono portato tutte le mie cosine a casa, di prodotti dei quali non posso più farne a meno, da quando l'ho provati sono sempre nel mio cassetto e ce ne sono un pochino, ovviamente ho fatto, cioè non ho incluso i colori perché sennò si stava qui all'incirca una decina d'ore, però le cose che proprio vedo che continuo a ricomprare, continuo sempre a utilizzare e mi piacciono, quindi direi di partire, non so nemmeno da dove partire, però iniziamo da, allora partiamo da queste due basi, allora sono le basi di Lafam, delle basi ultime uscite, sono l'R005 e l'R004, ecco da quando queste basi sono entrate nel mio cassetto non ne posso più fare a meno, tra l'altro le ho già finiti per ben tre volte, sono quasi al termine, specialmente lei che è quella che uso maggiormente, che è quella un pochino più fredda e devo riacquistarla, quindi non fate caso, anche a barattolino un pochino sporchi, però d'altra parte le stiamo utilizzando, quindi queste basi sono spettacolari, allora nascono come basi semipermanenti, ma queste qua noi in negozio si usano tantissimo se non esclusivamente come colore, cioè veramente è assurdo, ma noi queste basi sono delle basi di rubber appunto come potete vedere, bellissime anche come basi, cioè però ovviamente avendo una consistenza meravigliosa riusciamo a utilizzarli benissimo anche come colore, hanno anche una buonissima coprenza, quindi io sotto praticamente uso anche un cover, ma anche se non uso un cover, comunque sia la cliente al di sotto ha un'unghia naturale, hanno anche una buonissima coprenza, allora questo qua è base fredda, rosata, con queste perlescenze, questi glitterini sottili argentati, mentre questa qui, l'R04, è più pescatina, ce la faccio ad aprirla, è più pescatina ed ha all'interno dei glitterini invece dorati, quindi comunque nell'info box vi lascio il video dedicato a queste basi, così almeno non mi sto a dilungare un po', ma queste ragazze, cioè le dovete avere nel vostro cassetto, credetemi che le clienti impazziranno, impazziranno, perché quando vogliono qualcosa di nude, leggermente luminoso, le faccio vedere queste basi, che ripeto, noi usiamo veramente come colore, cioè sono super soddisfatte e felici, le potete utilizzare sopra a farci una French, veramente, veramente, veramente carine, quindi questi qui, due sono i miei mai più senza. Poi, vi faccio vedere lui, allora questo è un colore di Crystal Nails, è il GL61, e credetemi che questo nude sul grigiastro non ha mai più abbandonato il mio cassetto da anni, questo io ce l'ho, cioè continuo a ricomprarlo, ad acquistarlo da anni. Allora, ha questa colorazione, eccola qua, è un nude freddo, un nude freddo, lo definirei quasi morto, no vabbè, non quasi morto, però è un nude veramente bello, bellissimo, coprente con due passate, ma sulle unghie proprio risulta super iper naturale, cioè se uno vuole qualcosa, questo qui è il nude per eccellenza, per quanto mi riguarda. Ora, non lo sto a catalizzare, perché non ho nemmeno la lampada a disposizione, però, all'incirca il colore che viene fuori è questo qui, e credetemi che sulle mani, se uno vuole un nude è veramente molto bello, cioè mi piace tantissimo, e ripeto, lo uso anche sotto varie polveri, vari effetti, gli specchiati, insomma, questo è un nude, per quanto mi riguarda, da avere, è anni, 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 che lo riacquisto, 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 quindi questo è un altro mio, mai più senza. Visto che ci sono, che vi ho fatto vedere questo colore, vi voglio far vedere, una polverina effetto sirena, della Crystal Nails, che uso molto, molto spesso, su questo colore, veramente, quando lo uso, che vi faccio, questa tipologia di unghie, quindi con sotto questo colore, e sopra questa polverina effetto sirena, le clienti impazziscono, e anche voi, mi chiedete, che colore ho sulle, sulle mani, quindi la combo che faccio, è con lui, con questa polverina, della Crystal Nails, che è la numero 3, quindi l'effetto sirena numero 3, ed è un, una polvere, super, super, iper, sottile, impalpabile, che questa la uso, o appunto a pioggia, tampono, catalizzo e lampada, e rimane questo effetto glitterato, con questa cangiatura oro, o se no appunto, lo utilizzo, proprio per ricreare, l'effetto sirena, quindi vado, a far catalizzare, il mio colore, una volta uscito, sulla dispersione, vado a massaggiare, questo glitter, e viene fuori, un effetto, veramente, carino, nel frattempo, se trovo qualche foto, appunto, con questi tipi di effetti, ve la metto qua, da qualche parte, quindi questa è una combo, che uso particolarmente, poi, questa qua, è bellissima, sui pastellati, su tutti, su tutti i colori chiari, color pastello, questa polvere, ha un effetto, pazzesco, veramente, questa qua, è, veramente, la vita, la cliente, non sa cosa fare, vuole qualcosa, però di semplice, però di luminoso, è, effetto sirena, l'effetto sirena, ragazzi, non viene mai, a noia, e alle clienti, fa impazzire, un altro, mai più senza, per quanto riguarda, la versione, semi permanente, è il gel news, ora, io in questo momento, ce l'ho il natural, ce l'ho natural, ma uso, maggiormente il classico, non ce l'ha però, disponibile, e quindi l'ho preso, nella colorazione natural, e, questo, vabbè, è nuovo, perché almeno, non vi ho portato il mio, perché era in condizioni pietose, quello che avevo nel cassetto, e questo gel news, nell'ambito del semi permanente, ci ha svoltato la vita, allora, ha una consistenza, ve lo apro, ma tra l'altro, guardate, è già sporco, e questo era nuovo, ha una consistenza, abbastanza densa, vedete, che permette, veramente, di dare, all'unghia naturale, un certo tipo di spessore, che non sia ovviamente, uno spessore del gel, ma neanche, di un classico, semi permanente, questo, tipo di prodotto, permette, di fare anche, la tecnica, senza limatura, noi, non la utilizziamo, particolarmente, in negozio, facciamo, un classico, semi permanente, magari, su unghie, un pochino più, più fragili, più deboli, andiamo a mettere, due strati, a smalto, invece, che uno, ma, ha una tenuta, pazzesca, veramente, anche su unghie, molto fragili, ha una tenuta, pazzesca, mi piace, mi piace, vabbè, anche qua, mi piace, anche il tipo di colorazione, che ha, cioè, adoro, questo prodotto, veramente, e appunto, dura anche, tre, barra, quattro settimane, pur, usandolo, appunto, come semi permanente, quindi, vi ricordo, che potete, tranquillamente scioglierlo, io, l'opzione, di sciogliere, non la uso, da una vita e mezzo, io faccio tutto, esclusivamente, con la fresa, e anche questo, vado sempre, a rimuoverlo, con la fresa, quindi, questo prodotto, veramente, non ne abbiamo più, fatto a meno, è sempre nel nostro, cassettino, e penso che, almeno, non troviamo, un altro, sostituto, più economico, e valido, quanto lui, questo rimarrà sempre, nel nostro, cassetto, allora, passiamo a un po' di gel, il primo che vi faccio vedere, è lui, il One Piece Not It, di La Femme, lo vedete, concio, perché questo è quello che avevo, nel cassetto, e, allora, questo qua, è un gel, clear, quindi, trasparente, che, lo utilizziamo, particolarmente, in estate, perché, in inverno, è abbastanza, parecchio, denso, quindi, non lo preferisco, in inverno, ma, in estate, lo adoro, lo adoro, perché, almeno, con debba, avere una base, appunto, rosatina, è cristallino, non cola, non sviluppa calore, ci potete fargli allungamenti, perché, ha una, tenuta di pinzatura, eh, pazzesca, è veramente, bello, e, anche su unghie difficili, questo qua, dura, da Dio, veramente, questo gel, per me, è stata una scoperta, e, mi piace, veramente, tantissimo, però, ripeto, lo uso in estate, ma, è un prodotto, che nel mio cassetto, perché, vedete, ha, una bella, densità, non che in inverno, è inutilizzabile, capiamoci bene, però, come potete vedere, è abbastanza denso, quindi, questo qua, in inverno, ci fate tranquillamente, anche i 5 unghie alla volta, figurati, in estate, 4, eh, se non lo tenete, ovviamente, in un posto, dove c'è, eh, parecchio caldo, ma avete una zona, abbastanza, eh, fresca, tranquillamente, 4 unghie alla volta, senza problemi, vedete, brillantina all'interno, perché, eh, questo qui, essendo un gel, cristallino, proprio super trasparente, per gli effetti sotto vetro, è, 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 composi, cioè, io di questo gel, Nasıl, diciamo, è il mio colleghe, quindi, questo qua, lo troverete sempre nel mio cassettino, un altro gel, mai più senza, sempre, eh, molto cristallino, quindi anche questo qua, meraviglioso per gli effetti sotto vetro, ma, un pochino più morbido, A livello di densità rispetto al One Piece No It di La Femme è Olimpia 2, questo qua io penso che sia stato e che è uno dei miei costruttori preferiti per quanto riguarda Passione Unghie perché fra tutti è quello che non ha mai cambiato formula, almeno che io mi ricordi mi sono sempre trovata bene e questo ve l'ho sempre straconsigliato da quando usci, infatti se andate nei vidi vecchi dove vi parlo di lui già mi piace. Quindi è rimasto, nonostante siano passati diversi anni, questo costruttore continua ad essere nel mio cassetto, quindi deduco che sia un mai più senza perché, ripeto, allora è super trasparente, super cristallino, ha una densità che vi permette di lavorarlo tranquillamente anche in inverno, quindi anche nelle stagioni un pochino più fredde, ma ha una densità sì, ok, autolivellante, però che non va a colare troppo appunto, non va a camminare particolarmente tanto, quindi mi trovo da dio, però ha questa consistenza che poi, ha questa consistenza che rimane abbastanza bene anche in estate, ovviamente è leggermente più liquidino, ma nemmeno più di tanto, quindi questo prodotto riuscite a utilizzarlo sia in estate che in inverno, è super trasparente, ripeto, quindi per gli effetti sotto vetro spettacolare, spettacolare, veramente spettacolare, e si lavora da dio, ha una buona tenuccia, potete fare allungamenti in cartina, perché è un gel che mi ricordo è abbastanza rigido, ma comunque sia mantiene tantissimo la pinzatura, quindi è bellino anche proprio da utilizzare in fase di allungamento, quindi questo io lo amo, mi piace tantissimo, e continua ad oggi ad essere appunto a fianco a me. Allora, altri costruttori di cui vi parlo da una vita e mezzo, poi successivamente sono uscite nuove colorazioni, tipo è uscita la rose, però che ho sempre utilizzato sono i soft, i costruttori di karma nails, i builder soft, quindi abbiamo il soft white che uso da quando è uscito, per quanto riguarda il baby boomer, coperture lattiginose, è bellissimo, questo è quello che ho nel cassetto, infatti lo vedete utilizzato, e questo è meraviglioso, veramente, adoro, mi piace la consistenza, perché rispetto a tanti lattiginosi questo non cola niente, e in estate, credetemi, per effettuare il baby boomer c'è bisogno di un costruttore che non coli, ma che si modelli da dio, perché c'è, vedete, è morbido, è morbido, quindi riuscite tranquillamente a modellarlo alla perfezione senza fare particolarmente grandi solchi, e non cola, quindi anche in estate, d'inverno, vabbè anche in inverno, ci faccio sempre, comunque sia un paio di unghie alla volta, quindi questo costruttore mi piace tantissimo, è ottimo anche per gli allungamenti, perché mi è capitato di farci anche degli allungamenti, per il baby boomer uso lui, da sempre, praticamente, e anche per le coperture lattiginose, è veramente bellissimo, e anche questo magari applicato poi lui sopra, l'effetto sirena, dovete provarlo questo qua, dovete provarlo, è stupendo, veramente stupendo, poi abbiamo il soft pink e il soft rose, ve le metto così, così vedete la differenza dei due costruttori, allora è il soft pink, anche questo lo uso da un bel po', mi piace, allora hanno tutte e due le stesse caratteristiche e la stessa consistenza, quindi veramente a livello di caratteristiche non cambia niente tra i due, cambia la colorazione, che questo praticamente è un lattiginoso rosato, mentre l'altro è un pescato, ma poi quando va ad asciugare praticamente non vedete la colorazione pescata, ecco la vedete all'incirca così come la vedete sulla palettina, allora cosa hanno di bello questi costruttori? Cioè già lo vedete, non si muovono, vedete? Cioè sono morbidissimi, ma non si muovono, quindi voi avete tempo di lavorarlo quanto vi pare, e questo tipo di consistenza viene mantenuta abbastanza bene anche in estate, quindi io questi costruttori li adoro, li adoro perché sono morbidi, cioè veramente voi col pennello lo lavorate da dio, non vi fa solchi assolutamente, non vi fa assolutamente solchi, sono bellissimi questi costruttori, tengano benissimo, non sviluppano calore, e potete tranquillamente andare a fare anche i vostri allungamenti, sono bellissimi anche per allungamento, mantengono abbastanza bene la pinzatura, non come i trasparenti che vi ho fatto vedere prima, però la mantengono abbastanza bene, quindi per allungamenti di media lunghezza tranquilli, veramente, insomma questi gel mi fanno impazzire, sono quelli che uso maggiormente, sono quelli che uso quotidianamente, se non ho da fare particolari cose al di sopra, se devo andare con un monocolore, io uso sempre loro per effettuare refill, veramente, quindi questi due veramente mai più senza, e poi anche lui assolutamente, perché se ho bisogno di un lattiginoso bianco è lui, il soft white, e questo veramente ragazzi ve ne parlo da una vita e mezzo, questo se non l'avete provato dovete assolutamente provarlo, questo qua sviluppa leggermente più calore, essendo un lattiginoso, ma niente di particolare, cioè non è che ustiona, questi qua due invece assolutamente non li sentite proprio, quindi bellissimi questi tre costruttori. Allora, ultimo costruttore dei mai più senza che vi faccio vedere, sono i frozen black. Allora, questa tipologia di gel, ora io ce l'ho di passione, sì di passione, scusate, di karma nails, però le fa identici, perché li ho provati e sono praticamente identici, michelle nails, e anche passione unghie, e praticamente le metto tutte e tre al solito livello, cioè non ho visto differenza fra i tre, forse quelli di michelle nails costano un pochino meno, e hanno delle colorazioni forse un pochino più belline, non me le ricordo particolarmente, ora io per comodità lo prendo su karma nail, perché ordinando gli altri due gel che vi ho fatto, cioè gli altri tre gel che vi ho fatto vedere, di conseguenza faccio un ordine unico, e sono appunto i frozen, e sono bellissimi. Io questi appunto le uso in estate, particolarmente in estate, perché anche questi non sviluppano calore, ora questa è nella colorazione blush, hanno questo tipo di consistenza, che in estate si lavora da dio, veramente, faccio sempre una barra di unghie alla volta, poi in base a cosa devo fare, se devo fare una copertura, o un refill, a volte anche refill, magari faccio anche quattro unghie alla volta, dipende un po' da quanta ricrescita devo andare a compensare, e a parte la colorazione blush, che non mi fa impazzire, perché è troppo scura, anche in estate risulta essere abbastanza scurina, nonostante le varie abbronzature, ma il prodotto mi piace tantissimo, veramente, mi piace tantissimo, allora questo è un pochino più elastico, come tipo di prodotto, quindi io con questo è difficile che vado a fare allungamenti, lo uso particolarmente per coperture, o come dicevo prima, in fase di refill, si modella da dio, non sviluppa calore, e cerco di usarne in quantità quasi perfetta, perché se no, essendo un gel appunto ideato per l'estate, diciamo, perché non sviluppi calore, se non abbiamo le lampade che funzionano bene, o mettiamo prodotto in eccesso, tende a non asciugare particolarmente bene all'interno, ma io ci sto attenta, cioè basta appunto queste accortezze, quindi avere lampade funzionanti, e dosare bene il prodotto, per il resto è un gel che io adoro, ripeto, sia questi, quelli di Michelle Nils, che di Passione Unghie, non noto differenza, mi piacciono tutte e tre, non so se magari vengono dalla stessa fabbrica, ma sono bellissimi, bellissimi, mi piacciono le colorazioni, a parte ripeto a questo blush, che secondo me è abbastanza scurino, in estate questi sono da avere, mi piacciono davvero tantissimo, e d'inverno al momento lo uso solamente su una cliente, perché lei veramente odia qualsiasi cosa, che sviluppi calore sulle unghie, e anche se è proprio un velo, e con questo qui proprio zero, cioè nulla assoluto, quindi mi piacciono tanto i Frozen, e appunto è un mai più senza, ora comunque sia voglio poi riacquistare anche quelli di Michelle Nils, che erano davvero ottimi, e se non sbaglio, rispetto a Karma, costano meno. Allora abbiamo dei sigillanti, allora partiamo da quelli iconici, allora io uso sia quello di Karma Nail, che è il Super Shine, che sapete ve ne ho parlato fino allo sfinimento, però ho voluto scegliere un sigillante, se mi dicessero qual è il sigillante della vita, del quale non puoi più fare a meno, e ho scelto il top coat no wipe di La Femme, nonostante l'altro mi piaccia tantissimo, e ad oggi continuo a utilizzarlo da anni, perché da anni anche di quello ve ne ho parlato tantissimo, ve l'ho sempre straconsigliato, però il top coat no wipe di La Femme, c'ha quel qualcosina in più di lucentezza, cioè io lo trovo veramente super iper mega lucido, c'ha solo una pecca, che infatti era un po' in forze se mettere l'uno o l'altro, la quantità di prodotto all'interno, c'è veramente poca ragazzi, 8 grammi, io spero vivamente, lo diciamo tutti, lo dico sempre anch'io, che La Femme ingrandisca le sue voccette, veramente non so il perché, non l'ho mai chiesto, del perché sono sempre così piccine, ma veramente finisce subito, finisce subito, e questa cosa mi urta particolarmente, ma a livello di qualità di prodotto, c'è non ha uguali, è veramente bellissimo, si stende da Dio, non dà problemi, non si macchia, super lucido, dura 3-4 settimane, bellissimo, a me fa tanto impazzire questo costruttore, quindi fra i due, il mai più senza è questo, poi ripeto, uso anche l'altro da sempre, però questo ha quella lucentezza in più, che mi fa dire, vabbè, lui è meraviglioso, e tra l'altro, anche i miei colleghi, preferiscono lui, rispetto all'altro, l'altro super shine di karma, è spettacolare, ma questo per me è top, poi Matt, Matt della vita, lui, il Matt Top No Wipe di La Femme, questo ogni volta che faccio Matt, mi chiedete, che sigillante Matt è utilizzato, ripeto sempre, anche nei miei video, su Instagram, sui miei lavori, uso solo, e sempre, lui, il Matt Top No Wipe di La Femme, per me è il Matt migliore che ci sia, sì, è vero, allora, dovete starci un pochino attenti, perché è parecchio poroso, quindi tende in base a cosa utilizzate, a macchiarsi, ma ragazzi, non è che si macchia con l'aria, cioè, io ho delle clienti che adorano il Matt, fanno unghie solo, esclusivamente Matt, e lo fanno anche sui latticinosi, cioè, c'è una ragazza che fa il Baby Boomer Matt, e io uso solo lui, e arriva che è leggermente più scurito, ma come si scurisce anche un sigillante lucido, ecco, non trovo grandi problematiche su questo sigillante, appena fatto, è un Matt super vellutato, super opaco, bellissimo, poi diciamo che dopo qualche giorno, un po' questo effetto velluto super matt, tende a diventare un pochino più luminoso, ecco, quindi un pochino più lucidino, però rimane sempre un Matt meraviglioso, cioè, a me quando le clienti mi ritornano con questo Matt, cioè, è bello, quindi questo assolutamente mai più senza, uso lui da una vita, cioè, da quando è uscito, l'ho sostituito a tutti gli altri Matt, per me è il numero uno, cioè, proprio bellissimo lui, sia il Matt che il top coat normale sono no wipe, quindi sono senza dispersione, visto che siamo in tema alla fam, non posso non mostrarvi questi, allora, è vero che sono usciti da pochissimo, ma, io ad oggi, vi posso dire, nonostante siano usciti da poco, che questi saranno i mai più senza, cioè, sono bellissimi, bellissimi, cioè, partendo dal fatto che hanno la stessa lucentezza, nel, del top no wipe, perché comunque sia, la famiglia è quella, ma poi le colorazioni, sapete che, io vi ho già detto, prima usavo quelli di Carmanail, fino ad oggi, ho sempre usato quelli di Carmanail, che comunque sia, mi sono trovata sempre da Dio, ma, questo hanno quella lucentezza in più, appunto, come lo stesso discorso del, del sigillante, trasparente, mi fanno impazzire, mi fanno impazzire, questo latticinoso è bellissimo, e poi hanno quella coprenza, quella leggera coprenza in più, che non guasta mai, bellissimo, abbiamo il latticinoso, anche di questi, comunque, se avevo fatto un video dedicato, anche in questo caso, mai lo lascio nell'info box, così, chi vuole più approfondimenti, se lo va a vedere, questo è bellissimo, è pescato, e nessuna azienda, e nessuna azienda, ha mai trovato questo tipo di colorazione, perché non a tutte le clienti, piace ovviamente, il rosa, quindi, assolutamente, questi qua, sono bellissimi, bellissimi, stanno durando d'addio sulle clienti, non danno assolutamente problemi, con qualsiasi tipologia di colore, sul quale lo vado a mettere, veramente, veramente belli, questi ve le straconsiglio, e dovete assolutamente avere, tra l'altro, vi ricordo che sulla famma, avete anche, un codice sconto, non affiliato, che è Pamela 12, quindi potete utilizzarlo, per avere un po' di sconticino, sui prodotti, finiamo col reparto sigillanti, ed è il finish cover, skin, di passione unghie, questo qua, addirittura, proprio da quando è uscito, non, cioè, ha svoltato, il mio modo di lavorare, allora, è meraviglioso, c'è poco da dire, è meraviglioso, ha questa base, rosata, chiara, e infatti mi piace, ed è diverso da lui, perché questo ha un effetto, un pochino più, più lattiginoso, e più rosino, proprio, non so se riuscite, questo è molto più naturale, vedete, vedete, quindi, questo qua, non va assolutamente a sostituire lui, ha una buonissima coprenza, tanto che, se magari sotto, ho qualche, disomogeneità del gel, e sopra devo fare qualcosa, che mi richieda un unghia sottonaturale, vado a dare una passata di lui, e diventa tutto omogeneo, e perfetto, cioè, è veramente bellissimo, anche questo è appunto, un sigillante, è senza dispersione, ed ha una colorazione super naturale, veramente, veramente, veramente bello, è questo colore, veramente bello, se poi, volete più coprenza, va a polimerizzarlo per 5 secondi, e dare una seconda passata, o, a prescindere se, io lo uso spesso come base, poi per le mie france, stesso discorso, stendo lui, polimerizzo 5 secondi, e vado a fare la mia france, perché, vi ricordo che è senza dispersione, quindi, se dovete farci sopra qualcosa, non lo andate a fare, polimerizzare completamente, perché se no, il prodotto che andrete a mettere sopra, non aderirà, alla perfezione, quindi, 5 secondi sono più che sufficienti, per poi andare appunto, a proseguire con la france, con un decodio, con quello che volete, ed è bellissimo, questo, ma è più senza, e tra l'altro, l'ho fatto, lo feci scoprire, poi anche alla mia socia, e anche lei, è pazzamente innamorata, di questo prodotto, quindi, bellissimo, vi faccio vedere, i miei due pennelli, che utilizzo, che proprio, non ne posso fare, a meno, anche quelle che ho del colore, per estendere il colore, sono, dei pennelli, del quale non potrei più fare a meno, ma purtroppo, non ve l'ho messo qua, in questo video, perché non sono più reperibili, le ho prese da una ragazza, a suo tempo, che rivendeva su Facebook, ma non c'è più, quindi, non le potete nemmeno reperire, quindi, ho portato solamente loro due, e questi qua, sono con me, sempre, cioè, questi sono, durante il giorno, per ogni cliente, ci sono loro due, sempre e comunque, allora, abbiamo, il, nel romerlo, dovrebbe essere lo zero, cioè, guardate com'è ridotto questo pennello, a parte che io, i pennelli all'esterno, le concio, in una maniera, indescrivibile, veramente, sono una sciacciona, ma dovrebbe essere lo zero, o l'uno, non lo ricordo, no, lo zero dai, che è quello piccino, così, fatto poi all'incirca, come il color, gel, di, di passione, forse questo qua, è un pochino più sottile, rispetto a quello di passione, e comunque, mi trovo molto, e anche più piccolino, se non sbaglio, questo mi trovo da dio, io questo lo uso, per, il refill, tutti i giorni, sulle clienti, io uso questo, perché ha questa punta, arrotondata, che mi permette, depositare il gel, intorno al giro cuticole, avendo la forma, appunto, stondata, mi va bene, nel giro cuticole, e poi vado, insomma, a sferare il prodotto, verso la punta, io, questo, per me, è essenziale, cioè, non, poi, ovviamente, è tutta questione di abitudine, se magari siete abituati a usare, il pennello piatto, sicuramente, magari con questo, non vi troverete bene, per me, da quando feci il corso, Fast Refill, appunto, dove utilizzavano, forse proprio lui, per, per fare, il refill, da lì non l'ho più lasciato, cioè, questo, tutti i giorni, è con me, per gli allungamenti, lo uso anche per gli allungamenti, però, magari, preferisco più, dipende che tipologia di allungamento, devo fare, preferisco, il piatto, il classico piatto, però, se devo fare anche dei piccoli allungamenti, tranquillamente, utilizzo lui, è bellissimo, mi trovo da Dio, ragazzi, questo qui, cioè, credetemi, che è anni, è anni, anni che ce l'ho, cioè, non so se ho un video qui sopra, di quando comprei questo pennello, oppure no, però, l'ho comprato appena è uscito, quindi, io non so, quanti anni è che c'è questo pennello, e che ho questo pennello, ragazzi, se i pennelli li tenete bene, a parte il discorso che è l'ercio, però, se le tenete bene, i pennelli durano una vita, veramente una vita, meraviglioso, poi, un altro pennello, che fa sempre parte dei mie refil quotidiani, cioè, lo trovate sempre con me, perché, anche tipo, quando uso colorini, così, in boccetta, non vado mai, in fondo, al giro cuticole, con il pennellino del, del colore, ma, vado con lui, quindi, con il colore, vado bene, sotto il giro cuticole, per, appunto, spingere il colore, più indietro possibile, ed è un passaggio, sembra che sia un passaggio, che mi fa, mi fa perdere tempo, ma non lo è, anzi, francamente, me lo velocizza, perché con, il pennellino, della boccetta, devo essere, un pochino più lenta, perché è più grosso, meno preciso, invece, con questo qui, vai, prendo la goccina di colore, nel giro cuticole, stop, veramente, faccio in un lampo, cioè, non è un passaggio in più, che mi rallenta, anzi, a mio parere, per quanto mi riguarda, sarà anche questione di abitudine, però, il lavoro, me lo velocizza, ed è il super fine, di passione unghie, però, lui, sempre, sempre con me, e, mi piace molto di più, perché poi c'è anche lo shorts, di crystal nails, c'erano diversi, pennelli a punta fine, ma questo qui, è il mio preferito, cioè, mi garba da morire, mi trovo da dio, e sarà, finché non smetterò di fare, questo lavoro, sempre, con me, poi, prodottino, di Moira, questo ragazzi, è bellissimo, questo dovete averlo, questo è un mai più senza, della vita, proprio, è il stamping and painting gel, di Moira, nella versione silver, sono tutti bellissimi, sono tutti meravigliosi, ma questo in particolare, cioè, non ha, non ha paragone, questo è bellissimo, è questo, appunto, argento, metallico, cioè, ma lo vedete, quanto è bello, questo, io, mi domando, se c'è qualcuno, tra di voi, che guarda questo video, che non ha preso, questo colore, io, voglio, capire perché, è stupendo, non utilizzato, ovviamente, a monocolore, ma, per i decori, per i finiture, per tutto ciò, che, eh, potete fare, con la vostra fantasia, ragazze, questo è bellissimo, bellissimo, io, lo adoro, noi, in negozio, lo utilizziamo tanto, infatti, questo è il secondo, e credetemi, per essere il secondo, vuol dire, che lo utilizziamo, tantissimo, perché, insomma, qua all'interno, ce n'è, parecchio, e ne basta, una goccia, una goccia, veramente ne basta, una goccia, perché, con una quantità del genere, ci fate, tutti i decori, del mondo, cioè, guardate quanto è bello, ovviamente, è senza dispersione, quindi, potete farci i decori, in rilievo, e dura tranquillamente, è stupendo, è stupendo, e come ho già detto, anche in altri video, spererei facessero un oro, che non sia giallo, come non so nemmeno io cosa, ma un oro, bello, con questo effetto, specchiato, perché spesso, mi chiedono anche l'oro, ma non ce l'ho, un oro così bello, non c'è, stupendo, questo, assolutamente, mai più senza, mai nella vita, poi, prodottino, invece, che vi abbino insieme, a questa, è il Fixing Gel 2, di Moira, che serve, per, gli svaroschi, per attaccare, gli svaroschi, noi utilizziamo, lui, questa colla gel, ed è, veramente bellissima, perché voi mettete, una puntina di colla, ci incassonate dentro, il vostro svaroschi, e quello rimarrà, lì a vita, eccolo qua, colorazione trasparente, ha questa densità, abbastanza, corposa, che appunto, vi permette, di fare la vostra pallina, di incassonarci, dentro, il vostro svaroschino, in modo, che faccia, un po' sui bordi, tipo, la coroncina, che appunto, va a incassonare, il vostro svaroschi, e credetemi, che lo svaroschi, non si muoverà, ora, io la maggior parte, li sigillo, proprio tutti, a prescindere, perché tanto, le nostre clienti, sono abbastanza, ghiose, o comunque, sia visto, non è che fanno attenzione, al fatto che magari, hanno lo svaroschino, in rilievo, quindi, vado direttamente, di sigillante, al di sopra, però, non è come, non andarci, ovviamente, lo svarosco, non sigillato, non c'è paragone, ecco, è molto più bello, quindi, su chi posso, so che ci fa, ci dà quell'occhio in più, con questa colla, è perfetta, veramente, questa colla, mi piace tantissimo, veramente tanto, e dicevo, abbinata a lei, perché, da quando è uscita, questa cosa, cioè, di questa GG, non ne potrò più fare a meno, più fare a meno, perché, è spettacolare, per prendere, gli svaroschini, e andarli, a depositare, nel punto, in cui vogliamo, sulla nostra unghietta, è, un matita di cera, ed è bellissimo, senza andare, sempre, con quella puntina di gel, prenderlo, che sporcavamo, gli svaroschi, sporcavamo la scatolina, dove all'interno, erano gli svaroschi, infatti, io, a lavoro, mi arrabbio, tantissimo, se trovo la scatolina, con un po' di gel, perché, proprio, mi urta, il sistema nervoso, vedere tutti gli svaroschi, appiccicati, dentro la scatolina, non ce la posso, proprio fare, cioè, divento una belva, e questa, ragazza, è stata la svolta, perché, cioè, le perline, tutto ciò, che è decorazione, potete andare, con questa qua, in cera, a me mi ha risolto, veramente, l'esistenza, devo dire che, assolutamente, mai più senza, direi, mai, mai, mai più senza, poi, vi faccio vedere, due olietti, sì, due, allora, in particolare, io, il mio mai più senza, sono questi qua, della fama, io, io impazzisco, per questi oli, hanno una profumazione, assurda, pazzesca, meravigliosa, hanno un'idratazione, fantastica, no, via, questo è di mango, è al mango, non potete capire, cioè, vi farei sentire l'odore, cioè, dovete assolutamente, provare questo olietti, mi fanno impazzire, impazzire, a parte che, mi piacciono proprio, adoro l'idea del pennellino, perché, io preferisco, quelli col pennellino, forse, sono anche un pochino, meno igienici, vabbè, non me ne frega niente, ma, io lo preferisco, proprio, mi piace, perché riesco, a dosare meglio, la quantità, e poi, sono buonissimi, cioè, sono pazzeschi, pazzeschi, mi piacciono, mi sono sempre piaciuti, meravigliosi, li adoro, le clienti, quando sentono l'odore di questi vini, cioè, vanno fuori di testa, veramente, però, in alternativa, devo dire, che, anche questi qua, di passione unghie, mi piacciono, tantissimo, tra l'altro, stesso discorso, qua abbiamo un 7 ml, qua ne abbiamo un 15 ml, quindi, qua abbiamo la pompetta, che, ogni 3x2, si rompe, però, faccio così, in zuppo, e ci va, ce l'appoggio, in tal caso, la pompetta, mi abbandonasse, però, anche questi qua, sono, meravigliosi, ce lo devo ammettere, anche questi, sono super profumati, questo qui, per esempio, è Big Bubble, cioè, cioè, questo, è proprio la cingomba, Big Bubble, ed è buonissimo, no, vabbè, mi fa impazzire, e anche questi, mi piacciono tantissimo, anche questo, è bello, idratante, devo dire, che, è un bello scozzo, tra questi due, e non sono riuscita, a sceglierne uno, in particolare, per quello che le vedete, tutte e due, in questo video, perché, mi fanno impazzire, tutte e due, tutte e due, sono in mai più senza, perché, quando faccio l'ordine, sulla fam, le piglio, sulla fam, ma anche se faccio l'ordine, su passione e unghie, le piglio, su passione e unghie, quindi, questi qua, sono sempre con me, questi mi fanno impazzire, veramente, buonissimi, buonissimi, veramente, buonissimi, poi, ultima cosa, che vi faccio vedere, sono alcune puntine, allora, queste sono le punte, che io uso, quotidianamente, che non ne posso più, fare a meno, cioè, da quando sono uscite, da quando ho iniziato, a fare le unghie, ho utilizzato, sempre, esclusivamente, loro, e non mi sono più separata, da queste punte, cioè, per me sono, la vita, tra l'altro, c'ho sempre anche un po' da pulirle, però, le avevo messe in questa scatolina, giusto, per farvele vedere, e sono, allora, partiamo, dalla trapezio, che, che poi, qua accanto, vi metto la scheda, la trapezio, questa qua, è di Crystal Nails, e, ho sempre utilizzato lei, e fra tutte le punte, trapezio, che ho provato, questa di Crystal Nails, è per me la migliore, cioè, è veramente la migliore, mi piace tantissimo, tantissimo, poi abbiamo questa qua, la Pesciolino, allora, questa è la versione successiva, ce n'è un'altra, che anche questa vi metto qua, comunque sia, uso o questa, o l'altra, mi piacciono tutte e due, questa mi piace tantissimo, perché ha questa puntina, proprio, appuntita, che va bene, sotto il giro cuticole, va veramente, a sollevarle, a creare questo solco, dove poi, stendere il colore, è una passeggiata, veramente meravigliose, queste due punte qua, sono la vita, e, sempre, sempre, fisse con me, da anni, 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 anni e anni, e vi dirò, anche la durata, di queste punte, è pazzesca, veramente, è pazzesca, non si consumano, molto facilmente, bellissime, assolutamente da avere, tanto qua vi metto le schede, così c'è scritto il nome, con precisione, potete reperirle, senza problemi, poi è entrata anche lei, a fa parte, della mia routine, per quanto riguarda, il giro cuticole, e questa qua, se non sbaglio, se non sbaglio, la trovate, nel calendario, di passione unghie, questa la uso, come terzo passaggio, mi fa impazzire, veramente, un pochino più cicciottina, però la uso, per spingere, bene indietro, tutte le cuticole, e appunto, iniziare un pochino, a rimuoverle, veramente, carinissima, poi, questa puntina qua, che a suo tempo, è stata la mia, prima punta, prima che uscissero, queste tipologie qua, per il giro cuticole, questa di Crystal Nails, e però, è un mai più senza, perché rispetto, a tutte le altre punte, di questa tipologia, questa è proprio piccina, piccina, e la utilizzo, se, per puro caso, la cliente, mette la mano storta, mi colla un pochino di gel, nei valli laterali, che è, con questa, riesco, andare appunto, a fare la pulizia, di quella zona, perché è un pochino, più aggressive, che ha proprio, i dentini, e quindi, va proprio a grattare, bene, 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 quindi, non mi piace, per la pulizia, del giro cuticole, mentre, per esempio, i miei colleghi, usano questa tipologia, di punta, io no, mi piace più utilizzare, loro, proprio le preferisco, sono più delicate, comunque, sia, essendo così diamantate, vanno, nello stesso tempo, oltre che a rimuovere, ma anche, a opacizzare la zona, mentre questa, comunque sia, se non stiamo attenti, magari, rischiate anche, proprio, di fare un pochino, di solco, lungo, lungo il giro cuticole, quindi, a parte il discorso, giro cuticole, ma io la uso, giusto, per togliere, quel prodotto, che mi ha colato, e che appunto, magari, con altre punte, riuscirei, a rovinarle, o se no, con quelle più grosse, ovviamente, non, non riuscirei, proprio a rimuoverlo, quindi, questa qua, è un mai più senza, cioè, io non posso stare senza di lei, assolutamente, quindi, top, poi, un'altra puntina, è lei, anche qua, vi metto la scheda, per farvi vedere, come si chiama, perché, non, a memoria, non me la ricordo, questa è di Crystal Nils, anche lei, è tutta dentata, come potete vedere, e questa qui, è meravigliosamente, perfetta, per andare a fare, una pulizia, del, sotto unghia, quindi, magari, che ne so, fate un allungamento, la cartina non era proprio allineata, perfettamente, avete un pochino di scalino, andate con questa, e andate a rimuovere, tutto il pezzo dello scalino, o, la utilizzo per, ridare ulteriormente, una forma, C perfetta, nei successivi, poi, refill, quando, vado a, refill, oppure, vado a pulire, tutta, la parte sottostante, vado a togliere, proprio, l'unghia naturale, che io, se riesco, cerco di togliere, tutta l'unghia naturale, nel punto, più vicino alla punta, che magari, tende sempre, a, a staccarsi, un pelino, quindi, a, a rompere, un pochino, più l'anima, quindi, ho la parte, iniziale, dell'unghia naturale, la tolgo sempre, tra l'altro, questa punta qui, me la fece scoprire, René Merlo, in un corso, appunto, perché faceva vedere, che toglieva, l'unghia naturale, al di sotto, quindi, meravigliosa, questa punta, assolutamente, da avere, perché poi arriva bene, in fondo, cioè, mi piace tantissimo, questa veramente, e anche questo, l'ho fatta scoprire, le mie colleghe, costicchia un pochino, perché viene, mi sembra, sulle 36, all'incirca, quindi, costicchia un po' po', però, è veramente, multiuso, cioè, una bellissima punta, e anche le mie colleghe, l'hanno apprezzatissima, poi, l'ultimo prodotto, che vi faccio vedere, è il cleanser, il cleanser, di Carmanail, penso che sia uno, dei cleanser, più belli, che abbia mai provato, un cleanser, che non ha, particolarmente, odori, quindi non dà fastidio, è un cleanser, appunto, per sgrassare, la nostra dispersione, ma veramente, io me ne accorgo, quando magari, uso dei costruttori, monofasici, tipo, che sto, Olimpia 2, quando poi, lo vado a sgrassare, dopo la polimerizzazione, per poi andare, a limare la forma, cioè, questo qua, me lo fa rimanere, lucentissimo, veramente, a volte dico, ma, ci ho già dato il lucido, perché, veramente, rimane, super, iper, mega, lucido, cioè, quindi, anche per i, sigillanti, che hanno dispersione, questo mi piace, perché, veramente, fa rimanere, il prodotto, super lucente, mi piace, tantissimo, e anche questo, lo uso, da anni, mi piace tanto, anche quello di Crystal Nils, devo dire, però, ovviamente, abbiamo qui, una differenza sostanziale, di prezzo, quindi, assolutamente, lui, un cleanser, super, super top, ragazzi, ok, ho finito, vi ho mostrato, i miei, mai più senza, ovviamente, nel periodo, poi nella vita, possono anche cambiare, però, ora, è veramente tanti anni, che uso, tutti i produttini, che vi ho fatto vedere, quindi, diciamo, che sono in questo video, perché, è così, perché sono, i mai più senza, quindi, fatemi sapere, se vi è piaciuta, questa tipologia di video, fatemi sapere, se, magari, con più fatica, perché, fare questa tipologia di video, sui colori, faccio fatica, perché faccio fatica, proprio a scegliere il colore, il mai più senza, però, insomma, se, se, vi potesse interessare, cerco di farvi anche quello, selezionando bene il colore, i colori, che, adoro, maggiormente, e, fatemi sapere, insomma, se vi è piaciuto questo video, vi mando, un mega bacione, e, fatemi sapere, anche, quali sono i vostri, mai più senza, così, almeno, da, scambiarci, anche, qualche, qualche spunto, e, qualche esperienza, vi mando, un mega bacione, ci vediamo al prossimo video, ciao, ciao,